Buongiorno a tutti, io sono Isabella Chiodi e ho frequentato l'Università di Padova a Facoltà di Fisica un bel po' di anni fa. Gli anni universitari coincidono con una fase di crescita dell'individuo sotto molti punti di vista ed è un buon percorso universitario quello che può fare la differenza. Io le ricordo come la porta d'ingresso nell'età adulta, con gradi di libertà ma anche di responsabilità da gestire ben maggiori di quelle del liceo, accompagnati da esperienze ed incontri che hanno rivestito molta importanza nel mio futuro di donna. Anni di impegno intenso, di nuove amicizie, di paura per gli esami ma anche di rapporti spesso amichevoli con gli insegnanti, persone autorevoli ma sempre disponibili ad un confronto costruttivo ed aperto con noi ragazze e ragazzi. Degli esempi di professionalità e di competenza che in alcuni casi hanno lasciato un'impronta indelebile. Questa a mio avviso era e spero lo sia ancora una delle le cifre che caratterizzano l'Ateneo Patavino. A prescindere dagli aspetti scientifici la cosa più importante che mi hanno insegnato è stata quella di imparare ad imparare. Indispensabile per allargare gli orizzonti della propria conoscenza ma oggigiorno anche competenza imprescindibile nel mondo del lavoro per stare al passo con ritmi di innovazione senza uguali. Avrei voluto restare all'università e forse le premesse c'erano ma poi il mondo dell'ICT che negli anni 80 stava letteralmente esplodendo in Italia mi ha catturato e portato in giro per il mondo tra bit and bytes, tra banche ed imprese che affrontavano le prime sfide di informatizzazione e digitalizzazione. Nella mia esperienza professionale includo anche come significativi numerosi tavoli di lavoro all'Unione Europea in rappresentanza del mondo industriale dove si cercava di dare il meglio con il concorso di tante competenze e culture diverse per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, il mantra dell'Unione Europea. E questo per il nostro continente dove ci si impegnava e ci si impegna a temi interessantissimi che l'innovazione introduce quali ad esempio gli stravolgimenti normativi che un'auto a guida autonoma può comportare. Un'auto, quindi un insieme di potentissimi computer a quattro ruote, la potremmo definire oggi. Ho cedato questi tavoli non a caso, ma per dire ai più giovani che quando si ha una base solida ti puoi trovare ad affrontare con disinvoltura dei percorsi impensabili quando hai 18 anni. Forse è anche per la mia esperienza professionale in cui ho molto presto capito la ricchezza del valore che persone provenienti da paesi e culture diverse possono rappresentare, che ho apprezzato la spinta verso una maggiore internazionalizzazione che l'Università di Padova e il suo rettore professor Rizzuto hanno rimesso in campo negli anni recenti. E questo io lo incoraggio con tutte le mie forze. Anche far rientrare cervelli italiani dall'estero, nonotante sembri in prima battuta una incontradizione con questo, in realtà significa seminare per una maggiore apertura. Chi rientra dall'estero porta a casa culture diverse, scambiate con la nostra che senz'altro avranno trasmesso, e concorre quindi a creare quel contesto aperto che incoraggia ricercatori e docenti di altri paesi ad esperienze italiane. Sempre nello spirito di concorrere a creare una cultura aperta e dal passo con i tempi, un'altra bella iniziativa, nella quale ho avuto il piacere di essere coinvolta sin dagli inizi, in qualità di ex alunna della mia università, è stato il lancio dell'associazione Alunni dell'Università di Padova sei anni fa. Andrea Vinelli e Cristina Felicioni, con tutti gli alunni che con molta generosità hanno contribuito, sono stati il motore di questo progetto, divenuto ormai realtà permanente e a loro va un grandissimo grazie. Il valore della rete non ha bisogno di spiegazioni oggigiorno e questa rete ha già offerto numerose occasioni per sviluppare nuove relazioni e nuove opportunità, per richiamare il valore di principi condivisi sui quali basare nuove iniziative. Sei anni fa attorno a quel tavolo si sono ritrovate persone che avevano preso indirizzi e percorsi diversissimi, persone che all'epoca degli studi non si conoscevano, eppure il valore dei principi e fondamenta comuni si respirava, dando spazio ad uno dialogo di familiarità e confidenza inimmaginabili in altri contesti. E questo è valore ed è una forza che va coltivata. Il mio auspicio è che l'iniziativa Alumni Unipd prosegua e si rafforzi. C'è infatti un bisogno enorme per l'Italia di sfruttare conoscenza ed intelligenza al fine di recuperare anni di crescita lenta, di degrado in qualche settore istituzionale, e più recentemente di una crisi generata da una pandemia che tutti ha colto impreparati. Insomma, c'è un bisogno enorme di accorciare le distanze tra mondo della conoscenza e settori produttivi, tra mondo della ricerca e mondo dell'applicazione industriale. L'università da sempre riversa talenti nel territorio e collabora con le imprese, ma credo che si possa fare molto, molto di più. Allora, un'associazione di ex-alunni, se ben organizzata, può senz'altro rappresentare quel corpo intermedio che fa la differenza. Ed è con questo auspicio che auguro a Gianni Del Pozzo, il nuovo direttore di Alumni IPD, che con il suo background ed entusiasmo ne ha tutte le premesse, di riuscire a far crescere ancora questa associazione e traghettarla verso un ruolo innovativo ed inclusivo.